buonasera buonasera benvenuti anche oggi dentro il nostro armadio sempre con me e soprattutto con Stefania Cattaneo buonasera Diana ciao a tutti ben trovati allora molto contenta perché questa è una puntata dedicata proprio a noi noi praticamente questa sera vi sveliamo i tre segreti che sono diciamo i must di tutte le donne tutte le ragazze le donne giovani le donne mature vogliono sempre queste tre cose esatto abbiamo fatto una ricerca su internet e quindi abbiamo visto che proprio sui popolari motori di ricerca sono le cose più cliccate e quindi abbiamo deciso di condividerle con voi perché le donne vogliono sapere come essere più allora la prima cosa ovviamente come essere più giovani magari Stefania no però diciamo sopra i 40 anni tutte quante vogliamo essere più giovani la prima cosa poi la seconda essere più chic più elegante e poi questa anche a 20 anni essere più magre no queste sono le ricerche quindi non è un nostro input ma è un input delle persone cioè le donne quando vanno su google cercano sempre queste tre cose qua esatto allora noi abbiamo deciso di raccogliere i migliori consigli e soprattutto i trucchetti che vi aiuteranno ad essere inizialmente partiamo dal più partiamo dal più giovane che non riguarda te ma riguarda me e riguarda il nostro pubblico ok che perché sappiamo insomma che ci sono anche tante donne non giovanissime che ci guardano allora i trucchi per sembrare più giovane ecco e soprattutto questa è una puntata che anche raggruppa alcuni consigli che abbiamo dato e altri che daremo sì un look come quello in foto che vediamo le nostre spalle un look total white sì di questa donna sicuramente molto molto giovanile che ha scelto di utilizzare un monocolore con dettagli un po' eleganti e un po' strappati alla moda più attuale quindi un paio tipo bikenbergs di scarpi aperte che sicuramente tradizionalmente non abbiniamo un tagliore elegante no infatti lo usiamo per andare in spiaggio solitamente però il monocolore rolende estremamente chic e di classe accompagnato a una borsa all'ultimo grido un bel paio di occhiali da sole e subito fa tendenza il bianco il bianco ottico ringiovanisce e il monocolore in questo caso ok quindi anche se fosse un total red un total black un total meglio però un bianco perché si tende a volte a fossilizzarsi su colori molto seri no più si va là con l'età meno si osa col colore invece un dettaglio magari certo il fluorescente non lo avvicinerei mai al mio viso però lo utilizzerei per una borsa per un paio di scarpi il total pink è una donna di 45 50 no total no total no sempre confetto un mix and match si un mix and match poi vediamo che cos'è ok andiamo avanti si no moda che cos'è si no moda perché perché avere lo sempre lo stesso look in vecchia ma anche attingere ai elementi che erano di moda tanti anni fa c'è chi dice io riconosco le mie coetanee dal fatto che utilizzavano quella maglietta ma sai che è vero ma sai che è vero si non con me con le mie coetanee con alcune sì sì è vero perché tu dici questa maglietta era di moda nel 1990 io c'ero me la ricordo e quindi magari è una donna che non dimostra quegli anni di fatto però dal suo abbigliamento lo fa trapelare sembra una banalità ma non lo è insomma cerchiamo di anche passando con gli anni bisogna seguire un po le tendenze esatto e perché poi si rischia se non si cambia anche di avere l'armadio pieno di abiti di comfort zone allora dicevamo certo l'abito che ci fa sentire sicure per andare a fare la spesa che senza impegno c'è però poi se si compra anche sempre lo stesso tipo di vestito si rischia di avere l'armadio pieno il cosiddetto non ho niente da mettermi perché sono tutti uguali mentre seguire la moda come l'immagine di quella donna che ha fatto è Filippa Lagerbeck immagino però cosa ha fatto ha utilizzato un pantalone verde di un colore che osa che però sta benissimo su una donna anche un po più su quell'età sì perché sono morbidi quindi non sono sinuosi sono eleganti che cosa intendi per mix and match andiamo avanti mix and match allora l'ha riportato in auge proprio sulle donne dai 50 in su anche il revival di sex and the city esatto che mischia non solo generi ma anche colori in questo caso quella seduta è sarah jessica parker che mischia gli stili ed essicuzza dubbi un ottimo modo per sembrare più giovane quindi evita si però il calzino col sandalo stefi se me lo metto io sembro un mia nonna eh però se lo mette lei elegante eh e questo è proprio quello che dicevamo certo osa chi può farlo a volte eh sì eh sì però noi vi suggeriamo chi può farlo e chi no accessori quindi bisogna mixare un po' con sobrietà e tra l'altro ritornando proprio solo un secondo a quella foto con sarah jessica parker la 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 sua amica nel film e anche nella vita utilizza un golfino verde abbinato alla scarpa verde quindi e la borsetta con un vestitino blu quindi osa nei colori e tra l'altro sono copiati bene sono due e tutte e due attenzione al dettaglio hanno i capelli bianchi poi parleremo anche di questo ok va bene andiamo avanti ehm dicevamo gli accessori gli accessori gli accessori ci permettono di dare un tocco sprint ed energico a un look anche serioso per una donna che vuole essere elegante ma anche non più giovanissima come per esempio nella foto che vi stavamo mostrando con un bel occhiale da sole e appunto un eh abbinamento di gioielli importanti in questo caso coordinati ecco l'uso degli accessori per sembrare più giovani io non ci avevo mai pensato sinceramente quindi questo è un consiglio che tu dai che penso spero che venga raccolto è un consiglio perché è poco perché non ci pensa l'accessorio non ci pensa ed è un modo per usare ed è un modo per usare comunque c'è quell'accessorio di moda che ti fa vedere che tu sei attenta al tuo look e che lo segui perché la moda è per tutti e sempre invece c'è un po' la tendenza dopo una certa età di quasi abbandonare certo quindi non cercare più l'accessorio o l'elemento di grida di grido va bene adesso tu hai preso due esempi per sembrare più giovani che secondo me sono proprio due consigli quelli che piacciono a me quelli proprio concreti caviglie fuori e polsi fuori partiamo dalle caviglie allora caviglie fuori perché slanciano la figura permettono di mostrare anche una parte del nostro corpo che non invecchia perché è anche il tipico punto polse e caviglie in cui ti dicono fatti tatuaggio se proprio te lo devi fare te lo fai sul polso e sulla caviglia perché non cede particolarmente con l'età non è particolarmente soggetto a rughe non è una zona che tende ad invecchiare e a ingrassare perché con l'età comunque è chiaro che si tende a mettere su qualche chilo certo quindi le nostre caviglie care cinquantenni non è che possono afflosciarsi rimangono invariate rimangono invariate quindi le possiamo mostrare come i polsi come i polsi e scoprire una parte di pelle dà sicuramente freschezza e quindi aiuta a smorzare un po' magari un abbigliamento che tende a coprire tanto perché più si va in su più la tendenza di tante donne è di coprirsi ecco però tu hai messo le caviglie ai polsi secondo me c'è un altro pezzo del corpo che anche le cinquantenni possono mostrare che è la spalla solo la spalla non so come la pensi tu sì assolutamente cioè il braccio tutto il braccio no perché quando comincia a diventare cadente è una roba orribile da vedersi ma la spalla non casta non crolla e non diventa mole cioè c'è l'osso anzi è un punto da far vedere anche se sei un po' curvi perché comunque lasci qualcosa tra l'altro ci sono sono una brava spalla c'è una brava spalla in tutti i sensi e bisogna utilizzare ci sono delle magliette intelligentissime in questo senso che hanno aperto soltanto qua e sono chiusi sul braccio le faremo vedere io ne odio quelle magliette le faremo vedere andiamo avanti perché siamo in ritardo le sneakers le sneakers sono un buon modo di abbinare un po' come l'uomo potete abbinarla anche con un abbigliamento elegante e siete subito giovani ok anche queste ringiovaniscono allora mani e unghie mani e unghie le mani e le unghie curate attenzione perché se si guarda il collo e il viso di una donna le mani sono tra le prime cose ad invecchiare tanto è vero che quando ci sono star molto molto tirate alla chair per intenderci che ha 70 anni e dimostra 20 che è però tutta di plastica tranne la mano e vedi che la mano è tutta rogosa la mano si vede che invecchia quindi teniamole molto i drag d'acchite curiamole molto e anche l'unghia che vuole la sua parte sicuramente aiuta su una mano che magari inizia a sentire la sua parte a me si stanno staccando tutte quindi non vi mostro le mie sono d'accordo mettetevi le creme idratanti sulle maniche anche una posso dire una coccola che ci si fa la sera e se così si tengono le mani più morbide i capelli i capelli attenzione come li teniamo per sembrare più giovani al più quale ho detto ma Steffi questa è un'ovvietà tu mi hai detto non del tutto non è del tutto un'ovvietà perché i capelli ovviamente trasandati sì l'ovvietà è che fanno una persona tutta trasandata però quante volte lo ammettiamolo noi stessi siamo andate al supermercato e abbiamo detto sì vabbè tanto i capelli me li curo quando vado al matrimonio me li curo quando vado all'evento quando vado in tv quando vedo la mia amica e invece poi ci troviamo a imbatterci proprio nel vicino di casa innamorato di noi piuttosto che nell'ex fidanzato e dici perché erano fatti i capelli mi ha visto così dopo anni e anni compagno di scuola sì che mi vede così che è tornato a trovare i genitori in zona quindi mi raccomando i capelli se volete scegliere di lasciarli diventare bianchi c'è chi è anche giovane con i capelli bianchi io non sono d'accordo tu non sei d'accordo ma Sex and the City e Hollywood sta sdoganando sta sdoganando il grigio e il bianco sulle donne sì sulle donne per proprio una rivalutazione anche del corpo che è giusto che la donna porti avanti tutta la sua la bellezza di ogni età e non che si fermi a vent'anni non voglia nasconderlo a tutti i posti però anche il bianco non vuol dire ah bello adesso mi lascio andare no certo posso avere una bella piega con i capelli bianchi un bel taglio con i capelli bianchi ecco le parure no questo è interessante questo è un altro consiglio interessante la parure no adesso guardate la foto di Jane Fonda di Jane Fonda che è un'attrice di una bellezza tra l'altro nella sua età stratosferica con la parure e senza la parure nella foto dopo come cambia cioè sembra molto più giovane adesso quindi la parure la parure fa proprio mia nonna mia nonna tendeva a mettere le parure mia mamma sai che mi ha regalato delle parure di gioielli e io non li metterò mai mettili spaiati li metto spaiati esatto quindi le parure ragazze via eliminate no non si usano assolutamente più anzi è proprio è una di quelle cose che si usavano un tempo e oggi non si usano e quindi chi lo fa dimostra dimostra proprio una vecchiezza anche dell'animo andiamo avanti il trucco sì e il trucco no il trucco sì e il trucco no perché è arrivata una certa età attenzione attenzione si deve iniziare a togliere un po' di make up perché tende ad invecchiare l'esagerazione quindi utilizzare via via dei toni più neutri più naturali più tendenti al marrone che non al nero come nella signora della foto utilizza per le labbra sicuramente un rossetto idratante perché i rossetti matte i cosiddetti opaci piuttosto che quelli che resistono tanto nel tempo che li metti la mattina e te li trovi ancora la sera tendono a seccare le labbra e più ti invecchia più le labbra sono secche secchezza porta le rughe e pervengono tutte le rughe sulle labbra allora anche esatto quindi tu dici meglio un rossetto morbido tipo un gloss anche sì o molto idratante molto cremoso che magari se ne va via prima ma che non mostra le rughe poi i colori no i colori naturali colori naturali magari una matita dello stesso tono delle labbra sì che non facendo sconfina molto che anche sottiglia un make up non esageri lo stesso con gli ombretti esatto questo coso così no e un nero così no e secondo me questa attrice che è proprio stata lei che ha sdoganato a Hollywood sul red carpet tutti si immaginavano che si presentasse nella sua Miss più giovanile e invece ha tinto proprio i capelli di bianco li ha lasciati naturali per questo evento e secondo me il trucco è volutamente stato fatto per fare contrasto quindi il nero che solitamente viene sostituito al marrone nell'occhio e il rosso fuoco sulla bocca però ecco lei proprio perché è un'attrice proprio perché era in un contesto come il red carpet però noi nella nostra vita quotidiana stai dicendo no meglio meglio a togliere un po' di trucco e attenzione anche alla parte del fondotinta perché è meglio utilizzare quelli un po' più idratanti perché anche lì quegli opachi si fermano in tutte le rughe e fanno il mascherone allora tende a invecchiare ulteriormente il blush il blush praticamente va messo sulle guance mentre con i cosiddetti punti luce di cui vi abbiamo parlato nella puntata nel make up vi consigliavamo di metterlo un po' sotto per risaltare sotto gli occhi e sul naso sì per risaltare lo zigomo ma visto che con l'età tende ad aumentare un pochino il pomellino e scavarsi la faccia quindi normalmente si andrebbe messo su questa zona l'illuminante l'illuminante no l'illuminante qua in alto quindi normalmente la parte più scura la mettiamo ai lati mentre il blush qua sullo zigomo perché ci tende a scavarsi quindi il blush qua sì ok si perde un po' si tende ad andare verso il basso perdendo un po' di consistenza si perde si si ci si assottiglia sul mento e la bocca della bellucci perché ce la fai vedere la bocca della bellucci perché è un esempio di una bocca a mio parere tenuta tenuta bene poi lei si sarà anche un po' ce la sarà un po' voglio dire adesso tu fai di quegli esempi e anche la natura che la sicuramente anche altre cose anche un po' è un po' l'acido ianuronico e quant'altro però diciamo che il colore io l'ho presa per il colore perché è molto naturale ok andiamo avanti reggiseni e colori le ultime due su questo aspetto allora se dobbiamo parlare di forza di gravità indubbiamente il reggiseno deve essere un nostro alleato quindi occhio al reggiseno perché se avete nell'armadio il vostro must che però ormai è vecchio vi consigliamo come ha fatto Sara Jessica Parker che è un esempio di anta di splendida cinquantenne di splendida cinquantenne e quant'altro mi raccomando utilizzate un reggiseno che sostenga e che sia un vostro alleato poi la scelta del reggiseno magari la vediamo poi faremo anche una puntata proprio sui reggiseni con calma però non è un dettaglio da trasandare come attenzione né troppo largo né troppo stretto perché anche il segno del reggiseno non ha il suo perché esatto l'ultima cosa i colori per sembrare più giovani colori brillanti colori vivaci non sono da escludere una bella camicetta color azzurro per esempio che fanno apparire più giovanile divertente attivo quindi anche voi vi sentirete più giovani pieni di energia quindi via grigi via neri via quei toni neutri datevi ogni tanto un nuovo impulso l'azzurro e il celeste va proprio bene con i colori di tendenza se non vi osate a metterli in una maniera magari un po' più strong utilizzatene negli accessori però fatelo però fatelo mettete i colori soprattutto adesso che è primavera andiamo verso l'estate per allegrarci un po' e poi noi vi ricordiamo che parleremo ancora dopo del nostro cerchio di itten che come si fanno ad accoppiare i colori allora adesso ci fermiamo qualche istante linea alla regia dopodiché ci occupiamo di come sembrare più eleganti e come sembrare più magre che interessa davvero a tutte a tra poco rieccoci rieccoci sempre dentro l'armadio adesso vi suggeriamo come sembrare più eleganti anzi come essere più eleganti eh sì perché poi l'eleganza è una cosa innata e ci spiegano che non viene soltanto dal vestito ma qualunque cosa si indossi bisognerebbe sembrare eleganti detto questo ci sono dei modi per aiutare esatto 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 ed è quello che vogliono sapere le nostre amiche dalle ricerche google quindi vi aiutiamo con un simbolo di eleganza che è Vittoria Adams la moglie di David Beckham che sceglie un look total black che è quello banalmente più facile quindi col nero siamo sempre eleganti quando la cara nonna diceva quando non sai cosa metterti mettiti un tubino nero e ci aveva ragione alla fine qua lei ha delle leggings nere con una tra l'altro quelli che vanno anche di moda adesso sono tornati anche i leggings con sotto la con l'elastichino sotto con l'elastichino sotto e qui è molto molto importante amiche imparare a conoscere le proprie forme sì quindi se conoscete il vostro corpo sapete quali sono i vostri punti di forza e sapete valorizzarli certo perché l'eleganza significa non sforare né strafare esatto avere il senso della propria misura della propria misura quindi è inutile che cerchiate di entrare in un pantalone che sta bene un altro che la fa elegante se il vostro corpo dice un'altra cosa esatto come noi sappiamo che abbiamo ormai abbiamo imparato che ognuna di noi rientra nel fisico a me la pera triangolo invertito rettangolo eccetera quindi ognuna sa eccoli qua facciamo un piccolo ripasso sì ognuna di noi sa che cos'è quindi è essenziale conoscere pregi e difetti per vestire bene capire che cosa ci valorizza ci aiuta a fare le scelte giuste in senso del look quindi valorizzare i premi i pregi e minimizzare poi i difetti i difetti i colori foto successiva all'altro trucco che abbiamo insegnato quello del cerchio perli abbinare cioè l'eleganza sta anche nell'abbinamento quindi una cosa che stride assolutamente no perché è così che si è eleganti senza pensarci troppo quindi i colori opposti ve li abbiamo insegnato l'altra volta o i colori analoghi che sono o uno di fianco all'altro o uno apposto all'altro andiamo avanti la taglia l'altro suggerimento la taglia vabbè questa foto qua ebbè questa però racchiude quello che non è elegante cioè entrare tutti i costi in una taglia 40 quando palesemente abbiamo la 44 allora è meglio una 44 che ci stia bene che non ci faccia uscire i rotolini da tutte le parti allo stesso tempo anche esagerare con la taglia e rubare le scarpe alla mamma non va bene e quindi anche strafare a un morbido come quello in foto deve essere della nostra giusta taglia esatto e questo già è un punto di forza il problema è che quando ingrassiamo vogliamo coprirci no è che psicologicamente passare la taglia successiva una volta è complicato e allora una cerca di stare nella taglia di prima ma perché è una cosa psicologica però tu stai dicendo giustamente piuttosto superate l'ostacolo psicologico ma dovete sembrare una sardina andiamo avanti accessori accessori distogliere l'attenzione dal fisico come utilizzando gli accessori e quindi mostrando la nostra eleganza anche tramite degli accessori di valore però attenzione non troppi insieme quindi o il cappello e la collana o i bracciali non esagerare mai questo l'abbiamo detto non esagerare con gli accessori anche con i gioielli ok adesso il capitolo più interessante come sembrare più magra allora la premessa che tu fai dalle foto è che è un po' il nostro mantra e che non è che dobbiamo essere per forza magre io ve lo raccontavo l'altra volta vediamo la prima foto che a New York nei negozi ci sono queste foto curvi e bello curvi e bello e soprattutto inizia ad essere bello per tutti non soltanto per noi quindi è importante passare questo messaggio ce ne sono altre due di foto curvi america e manichini che sono quelle che camminano appunto negli Stati Uniti a New York possiamo andare avanti perché è molto importante che le donne capiscano che è bello curvi anche dalle VIP anche dalle influencer anche dalle star altrimenti ce lo diciamo tra di noi nella nostra vicina di casa però non si smuove niente e appunto queste foto dell'America degli Stati Uniti dove i manichini sono curvi eccolo qua questa è un'altra vedete che il manichino è curvi perché di fianco ai manichini con l'abbigliamento sportivo taglia 38-40 ci sono questi e soprattutto li hanno già abbinati perché se no uno fa fatica e chiaramente tende a sentire c'è un'altra dopo eccola qua vedete anche questa sono yoga un negozio di un noto marchio sportivo con anche il manichino curvi andiamo avanti pantaloni culotte pantaloni culotte attenzione perché hanno un difetto enorme noi dicevamo no curvi è bello per racchiudere sintetizzare però visto che nelle ricerche di google le donne chiedono come sembrare più magra è perché oggettivamente non tutti si sentono bene con le proprie culotte chi si sente bene ok chi invece vuole sembrare più magra utilizza questi trucchetti per esempio non il pantalone così a culotte culotte si chiama no cut proprio lì quello tronca dove si tronca la caviglia sì perché se è un po' più lungo ok però se si tronca nel punto più largo del polpaccio taglia orizzontalmente la figura accompagnato poi in questo caso da delle righe orizzontali non aiutano una ragazza che di base è minutissima quindi questo no questo va bene a una minuta ma una che non è minuta no sì è una minuta ok ma proprio che ha che ha il problema opposto cioè che vuole sembrare un po' più in carne un po' più in carne andiamo avanti cintura la cintura sottile mi raccomando come la ragazza in foto perché è una cintura troppo grossa taglia orizzontalmente troppo troppo il fisico solo se avete il fisico a clessidra solo se avete il fisico a clessidra vi dico imparato invece se no una cintura sottile è la cosa giusta per spezzare un vestito che ha troppo a tunica rende più grassi sì perché sembra un monolite esatto quindi è giusto evidenziare un po' il corpo ma senza troppo giusto una via di mezzo intimo sì e intimo no l'intimo per le curvi attenzione perché le curvi normalmente hanno tanto seno quindi utilizzare un reggiseno che sostenga come quello della seconda foto aiuta a compattare il fisico mentre utilizzare un reggiseno che pur è bello e di moda però adatto a quelle piatte o comunque con pochissimo seno sicuramente non rende longilineo il corpo esatto esatto e questo va un po' nella sezione dei reggiseni eh sì di cui poi faremo una trasmissione ecco i pantaloni skinny le copiate ai tacchi per dire cosa? andiamo avanti per dire che se proprio ci tenete che ve la sentite utilizzate lo skinny col tacco che allunga se invece il vostro obiettivo come dal google è come sembrare più magre così no lo skinny non sarebbe da utilizzare proprio quasi perché lo skinny cioè te lo puoi mettere se sei proprio magra se sei magra o se no ti metti sopra un maglione un po' lungo una camicia un po' lunga è il principio dei leggings è meglio di no è il principio dei leggings ok però se stai cercando esatto non raggiungi questo obiettivo scarpe a punta le scarpe a punta attenzione allungano la figura tantissimo quindi è meglio utilizzare le scarpe a punta col tacco che non quelle rotonde anche se quest'anno è tornato il rotondo il quadrato è tornato il rotondo il quadrato però se avete un bel modello ancora esistono quelle a punta no ma la punta è intramontabile allungano e tra l'altro un pantalone che riesce a zampa di elefante a coprire fino quasi alla punta allunga ancora di più quindi questo non questo non questo perché questo è corto questo però scopre la caviglia nel punto invece più magro non nel punto più grosso e quindi va già meglio quindi è accettabile certo il monocolore anche smagrisce in monocolore non per forza deve essere il nero che notorialmente dimagrisce ma anche un panna in questo senso un rosa che addirittura per molte curvi è bandito con la cinturina nel punto giusto che come vedete allunga la gamba quasi fino al seno di fatto perché è stretto proprio lì con la manica che copre il braccio invece nel punto più cicciottello riesce comunque a slanciare molto la figura ma quindi non è vero che il chiaro ingrassa e lo scuro dimagrisce chiaramente lo scuro dimagrisce rispetto al chiaro però il monocolore può essere utilizzato meglio quel vestito fantasia sarebbe tremendo ecco sarebbe tremendo beh anche rosa fucsia in ogni caso hai preso un colore chiaro ma un colore chiaro neutro proprio per le curvi proprio per le curvi e le strisce ecco qua le strisce ci sono i trucchi per le strisce non tutte le strisce vanno bene nemmeno verticali sono meglio le strisce più sottili che le strisce grosse perché è chiaro che la striscia grossa tu prendi le foto di quelle magre ma tu devi prendere una più larga perché poi la riga fa così però la puntata non è solo su curvi ma è come sembrare più magra e quindi tante sono fissate cioè c'è chi è troppo magra e vuole ingrassare anche se è giusta e poi c'è anche chi è magra che si sente comunque in carne e questa è una magra perché se una cosa si sente in carne ha dei problemi grossi cioè non deve guardare noi ma deve guardare altro secondo me va bene neri svasati neri svasati appunto sono quelli che dicevamo possono slanciare tra quelli maggiormente e con un gillerino sopra nero addirittura l'avrei messo quasi un po' più lungo questo bollerino che poteva arrivare a mezza coscia però anche così non è per niente male anche con le sneakers e quindi vedi anche il bianco abbinato al verde militare al nero però non ci hai svelato un segreto i pantaloni svasati così devono essere a vita alta o bassa per sembrare più male ma per sembrare alta alta vero perché quest'anno torno alla vita bassa ahimè però la vita alta smagrisce un po' perché contiene giusto ok andiamo avanti le collane ecco le collane perché hai preso le collane perché tolgono l'attenzione spostano il baricentro quindi la collana va benissimo la collana molto lunga in questo caso che copre un po' la pancia e proprio distoglie l'attenzione al 100% uno pensa alla collana e non guarda la pancia in effetti però hai ragione perché questa c'è la pancia eh sì ma tu però non me ne ero accorta hai visto le collane distolgono e anche gli orecchini e gli orecchini gli orecchini perché tirano l'attenzione sulla parte alta del volto che tra l'altro diciamo che tra chi ha qualche chiletto in più e chi è molto magro è più bello il viso chi è un po' più pieno in viso perché tira molto le rughe vediamo la foto tanto è vero che sveglianta visto che abbiamo fatto anche questa puntata chi dimagrisce troppo si segna poi tantissimo invece il riempitivo è un riempitivo naturale e quindi il viso è sempre molto grazioso quindi mettete degli orecchini evidenti e i bracciali invece i bracciali anche messi per esempio sulla parte del polso che è la parte sottile riescono a attirare l'attenzione che bello il tuo è bellissimo infatti avevi attirato la mia attenzione messo invece nella parte quale ho messo apposta per farvi vedere questo bisogna un po' stare attenti perché chiaramente si vedeva il braccio più po' carino si e segna di più poi anche qui è la grandezza e quanto lo stringi ho cercato di allargarlo l'effetto braccio magro se non è troppo stretto se no sembra una salsiccia le cinture le cinture appunto abbiamo detto prima piccole però vi facciamo anche vedere l'effetto tra la cintura grossa e la cintura piccola teniamo conto che qui la cintura grossa è anche accompagnato da un rosso che sicuramente snellisce meno del nero però l'effetto è chiaro eh sì evidenzia quel punto vita che non è molto stretto però attenzione guarda la foto dove è vestita di nero senza cintura avrebbe quel maggiore punica che sarebbe comunque troppo grosso trasandato e grosso invece in questo caso la cintura sì sì assolutamente se siete volesse sembrare più magre cinture sottili assolutamente assolutamente il collo a V anche e il collo a V perché allunga quindi dicevamo un'altra parte del corpo qui stiamo cercando come sembrare più magre non giovani certo perché sì perché il collo è quindi la V è proprio fatta a slancio è vero ci si slancia e scopre una parte di pelle di corpo non so capito perché io ho tutti i maglioni a V non mi ero accorta però smagriscono invece il collo tondo no il collo tondo no e dobbiamo dire che anche il lupetto bisogna stare attenti che è un po' il problema della mascherina che quando ci siamo tolti in questi anni la mascherina qua faceva il triplomento non so se avete delle foto vostre con la mascherina di solito le mie almeno delle mie amiche sono improponibili perché proprio incornicia il viso e tira fuori la ciccetta la pappagorgia e la pappagorgia va bene siamo state un po' più lunghe ma erano consigli fondamentali abbiamo rubato un po' di spazio al calcio scusateci ma erano consigli importanti va bene grazie a Domenico Zingalo Salvatore Aiello in regia grazie a te Stefania ci vediamo per la prossima puntata sempre dentro l'armadio ciao ciao